... che correttamente lo siamo affronti all'adattività della scia del numero 2. Lo stacco della macchina, perde un po' l'eleo numero 7 in Tiger Legend, c'è il... a dettaglio di un concorrente in seconda fila, noi ci vediamo la lotta per il comando, Petit Trio che va ad attaccare subito a Petit Club, ricordiamo la fidata a Medio Fang, 200 che arrivano in questo momento con Petit che è già andato davanti, 14 scarso la prima frazione, fatta a tirare indietro, terzo in corda a Passat Valley, di fuori sembra sia rimasta Pitti Kinga Occi, l'erroreo di Pistola Jet che avanzava bene dalla seconda linea, sono in tante da aver sbagliato, forse anche Pannonica nel centro del gruppo, intanto il lancio in 29-4 con il passaggio davanti al tribù, una volta che Petit Trio ha conclusato il comando, Marco Stefani ha provveduto subito a rallentare l'andatura, ora di fuori viene subito anche Piper Legend, mentre Impetiosa l'ha risalita in terza ruota di Pantargar, con Roberto Merghetti dati sui 100 in 45 staccati, spuntano anche prima donna ZS, se fosse a Cadellone, noi ci vediamo intanto l'avanzata di Pantargar, ci vediamo di fuori anche Pazzo Lefonte che affronta la curva in terza ruota, intanto gli 800, il mezzo milio di gara con il rallentamento del leader, Petit Trio, 31-6 di prossione, Pantargar che va in lunga progressione, adesso arriva anche Pazzo Lefonte che ha scurato l'arga, ma forse trova apposta i 900, perché Piper Legend non tiene il contatto, mi ha scelto quello a largo, intanto il chilometro in 16 molto scarsi, coppie, Petit e Pantar, poi ancora Petit Trio e Pantar, poi Petit Club, Pazzo Lefonte, quindi ancora Fashup Valley, sono questi 5 che stanno staccando gli altri, ai tre quarti di miglio, mentre c'è un calo significativo da parte di Piper Legend, frazione in acce d'anzione, 36, Roberto Andreghetti che ogni momento non muove le mani, così come fa peraltro Marco Stefani al comando, perde una mezza battuta all'interno Petit Club a finire l'ultima curva, cavallo in retta all'arrivo che si dispongono a ventaglio, l'ultima curva in 15 staccato, adesso viene ancora Pantargar all'attacco di Petit Club negli ultimi 100 metri, Pantargar con Roberto Andreghetti che non muove le mani, il secondo lo tiene Petit Club per il Terg,